I voti cittadini hanno espresso desiderio di cambiamento, dice il presidente di Concommercio, una speranza di crescita consegnando al governo un capitale di fiducia e una responsabilità in vista del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea. Semestre che secondo Sangalli può rappresentare un punto di svolta perché dice l'Italia non è fuori pericolo. Le prospettive di crescita sono deludenti, siamo ancora nella palude degli zero virgola tanto per il PIL quanto per i consumi, non ci sarà una ripresa salvifica, ci dobbiamo salvare da soli facendo le riforme. Sangalli segnala 12.000 imprese in meno nei primi tre mesi del 2014 e consumi che torneranno a livello precrisi solo tra 11 anni, chiede una riforma del fisco perché dice le tasse in Italia sono troppo alte, servono semplificazione, più credito per piccole e medie imprese, energia meno caro, rilancio del turismo, aggiunge magari senza concertazione ma con collaborazione, lavorando insieme. Segnali di ripresa ci sono anche per i consumi, ha detto il ministro Guidi che ha promesso sburocratizzazione, meno tasse e un taglio al costo dell'energia. Immaginiamo che circa almeno il 70% dei commercianti possa beneficiare dello sconto in bolletta. Stimiamo che ci possa essere una diminuzione degli oneri pari a circa 3.000 euro per un albergo, 400 euro per un ristorante, quasi 900 euro per un piccolo esercizio commerciale. Eh, queste sono le dopo che ovviamente l'assemblea continuava, ci sono tanti aspetti interessanti che sono emersi e abbiamo dovuto tagliarla perché sennò l'avremo seguita live. Però, però, i nostri ospiti hanno avuto modo di essere presenti a questa assemblea e io ho tagliato proprio questo contributo perché ci sono tanti aspetti che già fanno un po' capire di che cosa andiamo a parlare e dove vogliamo puntare l'attenzione. E allora chiedo un po' un attimo il vostro parere, prima un po' in generale di quello che è stato detto e poi vorrei partire proprio dal discorso che l'Italia non è fuori pericolo, un po' tra le prime affermazioni che ha fatto il Presidente Sangalli. Prego, cominciamo con Antoni e poi vi coinvolgo tutti e tre sulla stessa perniciosa questione. L'Italia non è assolutamente fuori pericolo e credo non siamo neanche in convalescenza, se vogliamo usare questa metafora. Ci sono dei segnali in alcuni settori che fanno capire che l'economia forse, forse, trainata da qualche vivacità di qualche economia ai confini dell'Italia potrebbe, e sottolineo potrebbe muoversi, però un conto è quello che succede in settori come la manifattura, in particolar modo anche alcuni settori molto legati alla produzione di alcuni manufatti, altro è invece quello che sta vivendo quotidianamente la cittadinanza e le imprese, in particolar modo le imprese che servono la città, che sono utili alla città e che quindi sono a diretto contatto con questi cittadini. La percezione che hanno i nostri clienti, i nostri cittadini è quella di dover essere ancora molto cauti, teniamo conto che, ed è un passaggio che è stato toccato tra l'altro dal Presidente Sangalli nel corso della sua relazione, è vero che abbiamo gli 80 euro, che alcune fasce di reddito potranno godere gli 80 euro, lordi, però è anche vero che non sappiamo ancora quanto andremo a pagare di tasse, di tari, di yucca, così lo mettiamo tutti insieme, quindi attenzione perché ci sono delle variabili che fanno tremare i polsi a chi deve redigere il bilancio di un'azienda, figuriamoci a chi deve fare quadrare i conti in famiglia. Per cui, quando noi vediamo i nostri clienti entrare in negozio, sappiamo che abbiamo ancora a che fare con una persona che giustamente è in viva preoccupazione per l'immediato futuro. Quindi l'Italia è tutt'altro che un paese in convalescenza, anzi. È vero che abbiamo assistito in questi mesi ad una serie di annunci, di misure, che dovranno essere applicate e applicate con leggi, applicate con decreti legge, ma quindi come dei passaggi che non sono facili, perché sono i passaggi parlamentari, per dare concretezza a questi che sono stati gli annunci di questo nuovo governo. E gioco forza attendere con grande ansia, devo dire, che questi annunci si concretizzino in misure, che tra l'altro gli effetti di queste misure noi li potremmo avere sieno alla fine dell'anno o molto più probabilmente. No, ma poi forse neanche alla fine dell'anno più avanti, perché quando anche prendi un provvedimento poi ti devi avere le ripercussioni future. La fermo là, perché dopo le ridò anche la parola, perché voglio un po' vedere il primo aspetto, analizzarlo un po' insieme. Non siamo fuori di pericolo, non è una frase banale, anzi fa un po' venire l'ansia a quello che ha detto il Presidente di Commercio. Che cosa ne dice anche lei? Giustamente sono stati sottolineati alcuni aspetti legati alla fiscalità, però in realtà ci fa vedere un quadro un po' più ampio in cui noi appunto ci troviamo in un'Europa che ci potrebbe dare dei segnali, come ci ha dato, preoccupanti. Perché ci ha detto, interessante quello che ha detto Renzi, però vediamo se siete in grado di attuarlo, altrimenti ci fa fare un'altra manovra. Non ce l'hanno voluta riportare i media tanto, ma la parola che dobbiamo fare un'altra manovra ce l'hanno buttata addosso e noi siamo sempre con le spalle abbassate davanti alla Germania, è ciò che viene detto. Lei giustamente ha parlato di ansia e noi dobbiamo combattere l'ansia, dobbiamo andare in psicoterapia. Ci fanno andare in psicoterapia. Ora non è che dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto, però indubbiamente sono sette anni di crisi pesante questi che abbiamo passato. Alcuni però hanno interpretato questa crisi non come passeggera, sette anni di magra per poi sette anni di grasse, ma come momento in cui fare una metamorfosi. La realtà di sette anni fa non tornerà più. Chi l'ha capito ad ogni livello, anche politico, non fa marcia indietro e butta il cuore oltre l'ostacolo e guarda avanti, cercando di percepire quei piccoli segnali che ci sono qua e là, ancora non sufficienti per dire siamo usciti dalla crisi o per dire siamo in convalescenza, anche perché una terapia non c'è. Sei in convalescenza se fai una terapia, non c'è una terapia. Però devo dire che alcuni segnali ci sono, ecco. E ci sono in un settore che il commercio rappresenta, che è proprio quello del terziero di mercato, in cui ci sono i commercianti di ogni tipo, ci sono gli operatori turistici che sono importanti e che fanno parte di un settore che si è difeso bene in questi sette anni. E poi ci sono tutti gli operatori di servizi che creano servizi alle persone, ma anche alle imprese e all'interno dei quali c'è innovazione. Oggi ne usciremmo più in fretta se fossimo in grado di innovare. Certo, con meno tasse, con maggiori margini, si innoverebbe più in fretta. Con un'attenzione della politica più precisa su questo settore, anziché su quelli che delocalizzano, faremmo ancora prima. Ecco, però l'atteggiamento deve essere quello superiamo questa fase di ansia. Se cominciamo a ragionare così, forse renderemo meno violenta, meno pesante questa crisi che morde le caviglie, i polsi, anche il cuore e il cervello di tante persone. Però guardiamo avanti. C'è del fermento, l'Italia ce la farà. La politica stessa ci dà dei segnali positivi. Speriamo che la finisca con questa burocratizzazione tipicamente italiana. Eh, ma adesso tocchiamo anche questo aspetto. Adesso ne parliamo. Certo, la politica deve sentire il fiato sulle spalle della protesta, ma anche della proposta. E Confcommercio da sempre, oltre a fare proteste, fa anche proposte. E in particolare Confcommercio Veneto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. Dopo voglio saperle le vostre proposte, le faccio anche tirar fuori. Presidente, lei riveste un ruolo anche multipiano, multisettore. Comunque, che cosa ne dice? Io dico, riallacciandomi... A quell'era anche presente all'Assemblea? Sì, anch'io c'era un'Assemblea, è stata un'Assemblea molto importante, toccante per certi versi, anche per il momento in cui stiamo vivendo. E ha detto bene, prima l'amico, insomma arriva, sette anni di crisi, che sono serviti anche per affinare le tecniche, per capire, per migliorare, per porsi sul mercato con maggiore forza. Tutto questo i commercianti, il terziario diffuso, lo sta facendo, lo sta facendo in maniera egregia, autonomamente, aiutato dal Confcommercio e dal sindacato. Quello che noi non vediamo è il politico. La stessa capacità, la stessa volontà di reazione che hanno i nostri associati, che abbiamo noi nel turismo, nel commercio, nei servizi, nel terziario diffuso, giustamente, io non lo noto nelle amministrazioni, né locali né nazionali. In assemblea abbiamo sentito alcuni ministri che ci hanno detto che stanno facendo o fanno alcune cose, però anche nel settore del turismo, adesso c'è questo decreto del turismo, per esempio, fatto da Franceschini, si chiama. Io non... Che lo vorrebbe portare sotto i beni culturali, no? Sì, però parla, perché giustamente il turismo è cultura, il turismo è stile di vita, il turismo è territorio, il turismo è... E' no gastronomia. E' no gastronomia, il turismo è tutto questo. Il turismo sono anche i trasporti, perché poi se non ci sono i trasporti, lei pensi che chi arriva a Tessera in aereo, poi per andare a Iesolo, ci impiega due ore, due ore e mezza, se tutto viene, cambiando magari, per andare alle nostre spiagge, cambiando magari due o tre vettori. Ma non era questo, sto divagando. Torniamo al discorso. Allora, Franceschini fa un decreto sul turismo. Il turismo, abbiamo detto, è fatto dalla cultura e da tutto quello, però chi chiama? Chiama l'industria dell'attività ricettiva. Io sono un albergatore, quindi mi sta bene, però io non produco turismo. Io godo del bene del turismo. Allora io dico, se dobbiamo fare un decreto che sviluppi il turismo, al tavolo di concertazione dovrebbero esserci gli attori che fanno il turismo, che producono il turismo. E questo è un fatto. Ne spieghiamo ai nostri telespettatori un attimo. Cosa intende lei gli attori che producono il turismo? Allora, lei, mi scusi, è molto semplice il discorso. Chiunque sceglie una località per andare in vacanza, in studio, eccetera, la sceglie, ritengo, per la piacevolezza del territorio, per l'enogastronomia, se c'è un evento, la Biennale di Venezia, poi sceglie l'albergo. Prima sceglie la località, sulla base di queste, e dopo di che sceglie l'albergo, se c'è. Oppure sceglie un albergo 30 km più lontano perché costa meno. Ripeto, io sono un albergatore, non vorrei essere frainteso, però è evidente che io non produco il turismo. Lei cerca di... Io sono necessario perché i turisti vengono, alloggiano da me e quindi poi quando escono spendono e vivificano il territorio, la loro ricchezza che hanno in tasca la spendono nel territorio. Però non vengono da me perché sono proprietario dell'hotel bianco, rosso, verde, non faccio nomi, no? Vengono perché sono a Venezia, perché a Venezia c'è la Biennale, perché c'è la Grande, perché ci sono le gondole, perché l'arte, i musei, la piacevolezza, le nuove... E tutte queste cose. Allora, e questo è spiegato, ma è comunque un settore, cioè l'importanza che l'amministrazione pubblica pone nei confronti del commercio del terziario è insufficiente, per usare un termine scolastico. Secondo me sarebbero da bocciare, non riescono a capire l'importanza che noi abbiamo. Giustamente lei diceva prima noi non possiamo delocalizzare, noi non possiamo delocalizzare e produciamo dei servizi, quindi abbiamo bisogno di gente preparata professionalmente che possa dare questi servizi ai nostri clienti, ai nostri consumatori. Non possiamo pensare di essere una catena di montaggio dove uno fa un bullone piuttosto e quindi possiamo usare un rumeno senza nulla togliere, non vorrei essere frainteso, ma il concetto di bellezza, piacevolezza, di pulizia, eccetera, che abbiamo noi italiani, la manualità, la professionalità che esprimiamo noi in Italia è diversa dal resto del mondo e questo è un dato che tutti ci invidiano. Allora perché le amministrazioni non ci aiutano? Anzi dicono che noi siamo i nemici della società perché noi evadiamo. Può essere vero. Però voglio ricordare a tutti che evadere significa comunque produrre ricchezza. Perché se io non produco ricchezza non posso evadere. Se io produco povertà, se io produco perdite, cosa evado? Allora mettiamo bene i puntini sui. Io non sto difendendo gli evasori e assolutamente non è questo. Però voglio dire il male forse è anche come spendiamo questi denari che noi versiamo. E su questo ultimamente si è aperto un valio in Pandora e con questo poi magari approfondiamo. Infatti entriamo anche nel merito perché effettivamente è necessario farlo perché a questo punto tante cose si spiegano. Per cui, per carità, è un male gravissimo quello del nostro paese. Qui rimpallo la questione anche ad Antoni. Come diceva il Presidente ed è deprecabile il fatto dell'evasione. Ma c'è anche la corruzione. Però attenzione che ci troviamo... Sono due valori confrontati. 80 miliardi di corruzione e 100 miliardi di evasione. Questo è il paese oggi. Il problema è che veramente è un paese che fa acqua, per non dire marcia, da tutte le parti. Perché a questo punto noi cittadini che contribuenti che versiamo continuamente facciamo altro che versare perché è una cosa ormai è diventata uno stilicidio. Non apro il settore sanità perché lì qualsiasi cosa bisogna ormai devi pagartela e già hai le trattenute, eccetera. Ci troviamo che effettivamente tra gli evasori che però, lei dice, producono ricchezza, ma quelli che hanno già un'entrata abbondante e che con corruzione e quant'altro se la moltificano mille volte. per cui ecco che tutto l'apparato viene a costare molto di più e senza andare a commentare che adesso hanno voluto puntare l'attenzione, la lente di ingrandimento sulla regione o quant'altro, strutture, diciamo, un po' più basse senza andare a guardare al Ministero che poi quando si aprirà, se mai si dovesse aprire il vaso di Pandora del Ministero, apriti cielo, mi sa che l'Europa ci butta fuori. Detto questo, dopo le passo subito la parola, andiamo rapidissimi in pubblicità così abbiamo un po' più di tempo di approfondire il tema che aveva dato la palla a voi due, ovviamente, ed è una palla bella pesante. Pubblicità a pochi secondi, poi siamo di nuovo insieme.